Ciao a tutti vediamo come creare un grafico pivot possiamo farlo partendo da una tabella pivot che abbiamo già creato qua oppure partendo da una serie di dati normalissima non c'è alcuna differenza partiamo da una serie di dati selezioniamo tutta la serie di dati andiamo su inserisci grafico pivot qua selezioniamo possiamo inserire solo grafico pivot e tabella pivot ne facciamo così tanto automaticamente ci va a creare la tabella non è un problema facciamo ok e vedete che ci ha creato sia il grafico pivot che la tabella facciamo comparire la tabella eccolo qua e qui c'è il grafico pivot fatemi zoomare perfetto molto bene quindi se partite da una serie di dati automaticamente vi va a creare la tabella pivot e poi il grafico altrimenti se partite da una tabella pivot selezioniamola selezionato un qualsiasi punto inserisci grafico pivot ci chiede cosa vogliamo vedere facciamo così per il momento perfetto e abbiamo il nostro grafico pivot partendo dalla tabella quindi non preoccupatevi se non avete già una tabella pivot automaticamente ve la va a creare se avete altre domande o richieste per video tutorial d'excel lasciate sotto un commento io vi ringrazio alla prossima ciao ciao